Un permit player e sai quanto importante sono, visto che la storia dell'anno scorso insegna. Eh sì, esatto. Come l'anno scorso, Cannone, Mitch, Lamoro hanno fatto degli ottimi risultati e si vede, danno un buon aiuto. Si sente questa importanza, questa responsabilità che vi è stata data e che vi danno? Si sente ma anche no, perché l'ambiente è molto rilassato, c'è la testa che bisogna allenarsi bene e tutto, però è sempre un clima di gioco, di allenamento sereno, quindi c'è e non c'è, positivo, esatto. Il tuo ruolo? Facciamoci conoscere. Il mio ruolo è terza linea, numero 8 o 6 o 7, una via di mezzo tra i tre quarti e una mischia, perché le mischie dicono sempre che non spingiamo noi, non facciamo niente, però cerchiamo di essere un tramito, una via di mezzo tra i tre quarti e la mischia. Che campionato ti aspetti, insomma, che tu dovrai giocare anche con la tua squadra, immagino, e poi se ha bisogno appunto qui con Benettoni? Esatto, beh, in eccellenza è sicuramente un ottimo campionato, quest'anno ci sono stati degli ottimi acquisti dalle altre squadre e prevedo un bel campionato alla pari, esatto, tosto come l'anno scorso. Dovesse lo dirti, vai, entra. Qui? Felicissimo, subito, mi piacerebbe molto. E qui è veramente un step successivo, proprio più alto, ci deve essere una maturità da parte sia del giocatore, c'è il gruppo che ti aiuta molto, quindi è difficile, però si può fare. Ti auguriamo solo buon lavoro, in bocca al lupo e chissà che arrivi questa chiamata. Certo, speriamo sì. Sì, sì, sì.